mi è appena arrivato direttamente dalla suny bag questo pacchetto e dentro dovrebbe contenere un pannello solare da escursionismo da outdoor diciamo allora questo pannello solare ha una potenza di 7.5 watt e dalle specifiche tecniche dovrebbe erogare un ampere e mezzo quindi per un cellulare è più che sufficiente vediamo un po cosa cosa c'è come potete vedere massima potenza di uscita 7.75 watt e 1,65 ampere quindi direi più che ottimo qua c'è un piccolo video tutorial però quello poi vedremo dopo e questo è il pannello come potete vedere è molto sottile qua è già dotato di porta usb quindi qualsiasi dispositivo che ha un cavetto usb con questo è possibile ricaricarlo è flessibile si può piegare quindi si adatta bene allo zaino a una borsa a qualsiasi cosa anche a un vetro dell'auto perché anche le ventose quindi potete attaccare anche dentro l'auto due gancetti da utilizzare per attaccarlo magari allo zaino e delle fascette che fanno sempre come perché magari potete attaccarlo non so a un qualcosa anche uno sdraio una sedia e qua c'è anche dei led potete vedere che indicano più o meno lo stato di carica del pannello nulla andiamo a provarlo fuori al sole bene eccoci qua allora il pannello solare per comodità l'ho agganciato direttamente allo zaino ci sono come vedete degli occhielli dove io ho messo dei moschettoni che sono dati in dotazione e il cavetto usb l'ho messo direttamente la sacca superiore dello zaino la prima prova che ho fatto è quella di ricaricare uno smartphone samsung s9 direttamente dal pannello senza power bank roba simile e devo dire che questo pannello solare mi ha stupito perché tenendo conto che è anche inverno quindi il sole non è proprio perpendicolare sopra la nostra testa sono riuscito ad attenere anche un per 4 non per e mezzo circa come potete vedere da dall'app che ho usato per misurare l'assorbimento e devo dire che sono molto soddisfatto poi ho provato a caricare anche un power bank anche questo da 10.000 miliamper ora ed è andato perfettamente in carica dai test che ho fatto ho visto che quando la luce led della che sta sopra la porto sv diventa verde vuol dire che abbiamo circa un ampere che il nostro pannello ci genera nella confezione inoltre ci sono anche delle piccole ventose che come potete vedere si possono utilizzare per agganciare il pannello a un vetro o un parabrezza se proprio vogliamo usarlo anche in auto non camper una roulotte o dove vogliamo le dimensioni sono molto contenute vanno da 23 centimetri di larghezza fino a 27 28 centimetri di lunghezza il peso è sui 300 grammi pannello è flessibile non è pieghevole ma è possibile piegarlo o meglio curvarlo per adattarlo ai borsoni o agli zaini qui vi riporto una tabella che più o meno vi specifica tempi di ricarica sia per uno smartwatch per un piccolo drone per un cellulare con diverse altre tempistiche lo trovate su amazon i link sono tutti in descrizione e dopo i test che ho fatto in inverno sono più che sicuro che in estate avrà un rendimento nettamente superiore io mi sento di consigliarlo perché è un pannello piccolo portatile e robusto fatto bene e di ottima qualità e quindi